Buongiorno e benvenuto in questo nuovo video. Questo è un video che ho voluto riprendere per rendere enfasi alla mia passione per i liquori, in particolare il limoncello. Per quelli che mi seguono un po' di tempo sanno che ho realizzato in passato la ricetta del limoncello scientifico a 24 ore di Dario Bressanini sul canale Instagram. Poi, piano piano, ho iniziato a studiarmi eventuali metodiche per far divenire il processo più veloce e quindi creare un limoncello in tempi ridotti. Durante questo processo realizzai il video del limoncello a 30 minuti, che ti linko qua sopra, che puoi andare a guardarti con calma quando hai tempo. Questo tipo di estrazione è chiamata estrazione col metodo di naviglio, che è un metodo che utilizza delle diverse pressioni, dei diversi gradi di pressione per aumentare l'estrazione, cioè per rendere l'estrazione più veloce. Anche se fu divertente realizzare questo video, il metodo da utilizzare in casa o utilizzare questo metodo in casa è molto scomodo, perché bisogna stare lì con le siringhe, quindi creare un estrattore naviglio maccheronico e stare lì mezz'ora a spingere gli stantuffi di queste siringhe fino al completamento dell'estrazione. Quindi non lo farebbe nessuno a casa. L'anno scorso, però, fui contattato per email da un certo Fausto. Fausto aveva visto il mio video sull'estrazione di naviglio ed era rimasto molto interessato, essendo anche lui un appassionato in questo campo di estrazioni alcoliche. Quindi nell'email propose di utilizzare un metodo da lui suggerito, che fu appunto il metodo, o è appunto il metodo dell'estrazione, attraverso gli ultrasuoni. Io non l'avevo mai sentito, cioè avevo sentito gli ultrasuoni, però avevo sentito utilizzare gli ultrasuoni per pulire oggetti, per levare sporcizie da oggetti che si utilizzano magari in campo meccanico o cose del genere, ma non avrei mai pensato di utilizzare questo tipo di strumento per andare ad estrarre la matrice vegetale all'interno di un alcol. E quindi per me fu una cosa abbastanza rivoluzionaria, cioè rimasi come ho appena ho letto quell'email, ero come un bambino, dissi ok dobbiamo sentirci, ci sentimmo, quindi chiamai Fausto, lui mi disse più o meno quello che serviva per realizzare questo tipo di esperimento e io subito andai a comprare tutto quello che serviva, che in pratica era alcol, la lavatrice agli ultrasuoni e basta. L'esperimento è riuscito tra l'altro benissimo, che andremo a vedere in questo video, cioè che ti farò vedere in questo video, esperimento che prevedeva quindi di utilizzare una lavatrice di ultrasuoni per estrarre la matrice vegetale in meno di 10 minuti, una cosa proprio pazzesca. Mi misi all'opera, ho realizzato il video del limoncello con estrazione agli ultrasuoni utilizzando le stesse quantità che utilizzo normalmente per realizzare il limoncello a 24 ore. Ho realizzato il prodotto, prodotto di qualità a mio parere superiore a quello fatto con un'estrazione normale, molto più intenso come sapore, molto più matrice estratta, molto più oleoso, un prodotto diverso perché là abbiamo proprio l'azione degli ultrasuoni che vanno a creare attraverso il principio di cavitazione, che non sto qui a spiegarvi, anche perché non sono un chimico, un fisico, però potete andare a cercare benissimo su internet. Attraverso questo principio va a creare delle mini esplosioni, delle micro esplosioni vicino alla matrice vegetale che fanno in modo che la matrice vegetale si spacchi, si spezzi e quindi vada all'interno del liquido che sto utilizzando per estrarre. Dopo aver fatto queste premesse ho realizzato il limoncello a 24 ore per paragonarlo al limoncello in 10 minuti con le stesse proporzioni. Ovviamente non essendo contento di questa cosa ho fatto un altro esperimento sempre con gli ultrasuoni utilizzando però un terzo della buccia, quindi se normalmente utilizzo 150 g di buccia per un litro di limoncello sono andato ad utilizzare solo 50 g di buccia con lo stesso minutaggio. Sarà interessante fare un paragone tra i tre tipi di limoncello, quindi 24 ore, estrazione a 10 minuti con la stessa proporzione del 24 ore e poi estrazione a 10 minuti sempre, scusate, quindi con gli ultrasuoni, però con un terzo della buccia quindi solo 50 g se non erro. Anche perché l'estrazione l'ho fatto un po' di tempo fa il limoncello è nel frigo bello freddo e quindi adesso andremo a fare la prova di questi tre prodotti e vi dirò la mia, vi dirò cosa ne penso. Però prima di andare a fare la prova vi faccio vedere il processo completo per realizzare questo limoncello oltrasuoni, poi andremo a fare la prova insieme qui nel video e tireremo le conclusioni. Come ultima cosa, prima di iniziare con il processo, quindi con il video, ti chiedo di lasciare un like se ancora non l'hai fatto, di commentare e di supportare questo canale. Per favore, perché in questo modo crescendo, vedendo i numerini che aumentano, io sono sempre di più motivato a portare altri contenuti. Immaginate di fare un video che a voi costa ore e ore di lavoro per poi avere 100 visualizzazioni e nemmeno un iscritto, cioè proprio ti cala la motivazione. A me piace vedere questi numeri che salgono e mi motiva e a voi non costa niente, ma a me dà una grande mano. Adesso vi lascio alla preparazione, ci vediamo dopo. Prima di tutto sciacquiamo i limoni in modo che la buccia si apriva da qualsiasi residuo, poi pesiamo 300 g di alcol, 150 g di bucce, mettiamo in un contenitore, facciamo un po' di pressione in modo che tutto l'alcol copra le bucce e mettiamo il 24 ore a nanna. Adesso passo a fare quello con gli ultrasuoni, quindi semplicemente 50 g di bucce pesate, messa all'interno di un contenitore, quindi un frullatore scusate, vado a frullarle per renderle più piccole possibili in modo che la cavitazione sia quanto più efficiente possibile. Una volta frullate, peso 300 g di alcol, aggiungo le bucce, quindi le bucce ormai rese in polvere, minuscoli pezzettini, e attivo la macchina, la lavatrice oltrasuoni per 2 volte 5 minuti, quindi un totale di 10 minuti, controllando la temperatura che non superi i 30 gradi per questione di sicurezza. Una volta fatto ciò vado a filtrare il tutto all'interno della bottiglia con una garza per levare qualsiasi residuo di buccia e poi vado con acqua e zucchero e termino così il limoncello in poco più di 10 minuti. Questa qua è la consistenza di questo tipo di limoncello. Una volta fatto questo, possiamo andare a completare il limoncello da 24 ore, passate ovviamente le 24 ore. La cosa che faccio è quella di filtrare l'alcol ormai con tutti gli aromi e tutti gli umori del limone, della buccia del limone, e aggiungere il preparato di acqua e zucchero. Una volta fatto questo abbiamo i due composti finiti. Quando vado a sbattere le due bottiglie, vedete come quello al 24 ore non colora proprio la bottiglia in modo evidente, mentre quello a 10 minuti la rilascia quasi una patina bianca, quindi l'estrazione è molto più pronunciata qui. Per fare un altro confronto vado a realizzare il limoncello con 50 grammi di buccia, quindi un terzo della buccia, sempre con gli ultrasuoni, quindi 300 grammi di alcol, 50 grammi di buccia, vado ad estrarre. Sempre 10 minuti, quindi facciamo l'estrazione a 10 minuti, ogni tanto giriamo per rendere l'estrazione più omogenea e aggiungiamo ovviamente la quantità di acqua e zucchero all'interno della bottiglia. Fatto ciò, siamo pronti a mescolare, quindi a terminare anche questo limoncello, e abbiamo i tre limoncelli finiti. Allora, queste sono le tre estrazioni, quindi la parte finale. Questi due hanno la stessa proporzione di buccia, questo qua un terzo della buccia. Adesso bisogna andare all'assaggio e vedere come si differenziano tra di loro. Il primo che andrò ad assaggiare sarà quello fatto nel modo classico, diciamo 24 ore scientifico alla Dario Bressanini. Io assaggio. Questo è molto buono, già lo sapevo perché il 24 ore scientifico l'ho fatto un sacco di volte. Una di quelle ricette non stress che fai quando vuoi farti del limoncello in casa, quindi davvero ottimo. Adesso vado a provare gli altri due. Ok, adesso assaggio la sua controparte con ultrasuoni, stessa quantità di buccia, quindi in pratica stessa ricetta, solamente che qua abbiamo 10 minuti e avevamo il limoncello già pronto da bere. Secondo assaggio, limoncello 10 minuti. Leggermente più amaro. Io ovviamente questo qua già l'ho provato, però da solo non ho mai fatto il paragone tra i diversi limoncelli. Questa è una cosa che faccio adesso con voi perché non avevo mai avuto il motivo per farla, il bisogno di farla, però per questo ci sta molto bene. Quello che posso dire su questo limoncello è che ha un grado di amaro un po', cioè un grado di amaro maggiore, nel senso che secondo me per la cavitazione, per quanto tu possa levare il bianco da vicino alla buccia, non lo levi completamente, quindi un po' se lo prende, se lo porta via. Quindi secondo me questo sentore amarogno lo viene proprio da lì, però come intensità di sapore è uguale se non superiore a quello da 24 ore, quindi questa è la cosa straordinaria, esagerata di questo tipo di metodo, perché ricordiamoci che voi potete realizzare con questo metodo qualsiasi tipo di estrazione, quindi non solo con gli agrumi, ma qualsiasi matrice vegetale, secca, è uguale che cosa mettete all'interno del liquido, verrà estratta. Quindi è una cosa sensazionale, soprattutto in pochissimo tempo. Adesso provo l'ultimo, quindi quello con un terzo della buccia e 10 minuti. Ok, ormai mezzo ubriaco, sto scherzando, non ho avuto quasi niente, ci ho avuto poco, e vado a provare il terzo limoncello, quindi quello, scusate, fatto con un terzo della buccia, però sempre con gli ultrasuoni. Salute. Vi devo dire la verità, è forse addirittura più piacevole dell'altro, fatto con gli ultrasuoni, perché è meno intenso, meno forte, molto più aromatico, si ha molto più di limone, molto più di buccia, di agrume, e non ha quei sapori forti, quel sapore denso, che potrebbe dare un'estrazione molto spinta, quindi con molta buccia. Quindi secondo me questo qua è molto approvato, perché in effetti adesso bevendoli tutti quanti insieme si può veramente capire la differenza tra l'uno e l'altro. Io vi consiglio di provare anche voi a fare questo tipo di istrazione, di paragonarli e poi di farmi sapere cosa ne pensate. Adesso ci vediamo per la fine del video, per il finale, con le conclusioni. Ed eccoci quindi giunti alla fine di questo video, quindi le considerazioni finali. Ho voluto mostrarvi come realizzare un limoncello con la tecnica degli ultrasuoni, quindi in un modo e in una tempistica assurdi. Io penso che questo tipo di estrazione sia molto rivoluzionario e ringrazio ovviamente Fausto per avermi dato l'idea di realizzare un video del genere. Fausto, che saluto, persona veramente veramente eccezionale. Ciao Fausto! Ringrazio anche Dario Bressanini per aver mostrato a YouTube Italia la metodologia, la metodica per realizzare il limoncello a 24 ore, quindi il limoncello scientifico. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Per chi l'ha visto fino a questo punto, grazie, mi ha dato una grandissima mano, specialmente con l'algoritmo. Non per ripetermi di nuovo, però vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, di commentare e condividere. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!